Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo, anzi ad un nostro nuovo video Mi sono Studer e sono qui ragazzi con Frexone, Prep, DSQ e Rocco Punisce Buongiorno ragazzi Buongiorno Sembravano le cheerleader che bagnavano le cose bagnate Oggi ragazzi andiamo a vedere i 5 cerchi per affrontare la missione della settimana numero 4 Come vedete ragazzi si va direttamente a Borgo Bislacco Prendiamo un kart e poi è tutta di prepotenza e anche di ignoranza Asino vecchio Adesso ti prendo subito asinello Ti prendo subito asino Ma questa non vale come partita Perché Rocco c'aveva la mappa Io ho la mappa Prendiamo subito, prendiamo subito il kart e scappiamo subito Vediamo se ne troviamo uno Lo vedo, lo vedo, lo vedo qua alla destra del circolo Asino Gialla gialla Ok Lasciatemi guidare Problemi con Aspetta che siamo Dove sono gli altri due Ma voi siete fuori io vado a prendere i cerchi Andiamo Quello viola Li prendiamo dove siete Ok hanno preso il kart e anche loro Perfetto andiamo con due kart Si va raga Marker viola ragazzi Ok ragazzi ce la facciamo andiamo subito al primo Si si Bene così ragazzi il primo come vedete è all'ombrello Eccolo qua ragazzi Luca Coppetti Subito il primo Il primo lo prendiamo ragazzi Per un pelo per un pelo Va bene il primo è preso Il secondo Aspetta aspetta che andiamo Andiamo a prendere il secondo Andiamo a prendere il secondo Ok Non è un kart Venga 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 Andiamo a prendere il secondo Marker viola ragazzi Grazie Luca Coppetti Grazie asino Sto arrivando sto arrivando ragazzi Sto arrivando sto arrivando Perché i miei video devono sempre essere così incastrati Guardate ragazzi il secondo cerchio Eccolo lì Blin blin Can't stop it Ok ci siamo ci siamo Vedo la rampa vedo la rampa La prendiamo abbastanza larga Ok cerchio numero due preso Dove andiamo Abbiamo il numero tre ragazzi Attenzione Andiamo subito a prendere anche il tre Andiamo Bene così Va bene faremo le rampe Ce la facciamo ragazzi Ce la facciamo Ce la facciamo No aspetta non ballare Perché il volume troppo alto No non c'è problema Forza che andiamo Furca Andiamo giù a destra Ragazzi dentro così a prendere il terzo cerchio Ce la faremo Grazie asino vecchio Sei un pazzo Ti voglio bene Grazie Grazie asino Aspetta un attimo Eccolo Fai le rampe Qui e qua davanti e qua davanti Come due rampe qua davanti Va bene Va bene anche quella Va bene anche quella Vieni 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 Andiamo a prendere il terzo raga Vai numero 4 Ok ragazzi andiamo a prendere il numero 4 Tre potenti così Rocco Tre potenti così Intanto mando un bacione Direttamente nel video Ad asino vecchio E a Luca I pazzi che stanno facendo i pazzi Durante la live Grazie per le donation raga Molto lontano Molto lontano Sono su due ruote Grazie Andiamo 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 Ma io sono un guidatore di formula 1 Siamo fuori safe Dobbiamo andare a prenderlo per forza Forza così Forza così Ci siamo quasi Ok vedo il cerchio Eccolo lì il cerchio di fuoco Devi fare la No forse non devi farla No non devi farla Non devi farla Cerchio numero 4 Raga lo andiamo a prendere adesso Ok Vediamo se lo prendi La manca No Ho lasciato il cerchio numero 4 Raga un momento Vediamo se riusciamo andare a prenderlo da qui Forza 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 Guarda con che cattiveria Punta mil 5 Punta mil 5 Già fatto Già fatto Ho preso il numero 4 raga Non vedo Non vedo Che andiamo a prendere anche il quinto raga E avremo fatto il video E avremo fatto la missione Siamo incastrati nella roccia Noi moriremo della 6 Ma per il video si fa Per il video si fa Questo e l'altro Ci siamo ragazzi Ce la facciamo Ce la facciamo Stiamo per andare a prendere L'ultimo cerchio Vai 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 Luca Luca Stanno facendo i pazzi ragazzi In chat Stanno facendo i pazzi Andiamo a prendere l'ultimo cerchio raga Lo vede? Lo vedo Lo vedo Tutto a posto Tutto a posto Non è successo nulla C'è la safe Ma non ci preoccupiamo E il problema è salire E quello è un grande problema Faccio io Venga 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 Faccio le rampe Faccio le rampe Sono 54 di vita 55 si sbrighi Le faccia le faccia le faccia Le faccia le faccia La prego Sono a 43 di Dove il cerchio E qui sopra 37 36 Attenzione 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 31 Sì E li facciamo tutti GG Adesso ragazzi Vediamo se riusciamo a salvarci O ci ammazziamo No Come degli eroi ragazzi Moriremo in safe Davanti al nostro kart Insieme al nostro kart Ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Per aver guardato questo video Vi mando un abbraccione Ringrazio il criminale di asino Di Luca Il pazzo di Rocco Frexone E prep Noi ragazzi Ci vediamo in live Ciao No anzi Aspetta No no Non mi restare Non mi restare Aspetta aspetta Prima di salutarci Vediamo che sblocchiamo La missione No non lo vediamo Ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.